Tre persone arrestate e due denunciate. Il bilancio dell'attività degli ultimi giorni del commissariato di Gela, diretto da Francesco Marino. In manette Calogero Di Pietro, 66 anni, dovrà espiare 15 giorni di reclusione per minacce. Salvatore Cannizzo, 53 anni, dovrà scontare tre mesi di carcerazione per estorsione aggravata per fatti commessi sino al dicembre del 2004. Dusan Radosav Jevic, serbo di 34 anni, si trova ai domiciliari perché è rientrato in Italia prima dei 10 anni, non ottemperando al decreto di espulsione dal territorio italiano. Un 35enne è stato denunciato per ricettazione. Un ragazzo di 25 anni per trasporto e possesso di un'arma o oggetto atto ad offendere ed evasione. Inoltre, gli agenti di polizia dell'Ufficio Amministrativo e Sociale, nell'ambito di specifici servizi, hanno effettuato controlli e lidi balneari e locali di intrattenimento con serate danzanti per contrastare illeciti amministrativi e attività abusive anche con l'impiego di personale specializzato della squadra nautica, unitamente a personale del 113. Sono state controllate 15 attività contestate, 4 infrazioni al testo unico sulle leggi di pubblica sicurezza, 2 infrazioni per attività danzanti oltre l'orario consentito e 2 infrazioni per attività danzanti senza la prescritta licenza. 35 persone controllate. L'attività sarà ripetuta per tutta la stagione estiva.